Abbiamo visto ieri come l'Occidente nel Rinascimento abbia un rapporto direi quasi schizofrenico con l'impero ottomano. Da un lato temuto come la minaccia più spaventosa e dall'altro rispettato, ammirato e da qualcuno anche desiderato come un possibile modello alternativo rispetto a quello che esisteva in Occidente. Bene, anche gli ottomani hanno un rapporto veramente schizofrenico nei confronti dell'Occidente, dove si uniscono da un lato il fascino, il desiderio di conoscere e dall'altro la repulsione, il senso di superiorità automatico verso quei barbari, perché anche i turchi ragionano così, verso quei barbari degli occidentali, dei cristiani. La fascinazione turca per l'Occidente è legata in gran parte alle tecnologie occidentali, perché molto presto ci si rende conto che anche se l'impero è una minaccia in grado di affrontare gli occidentali alla pari sul campo di battaglia, e con una civiltà altrettanto complessa di quella europea, però ci sono tanti aspetti in cui l'Occidente ha un piccolo margine di superiorità. Basta guardare gli acquisti dei sultani, delle loro famiglie, delle loro donne, gli acquisti dei gran visire, dei pascià in Occidente. C'è tutta una serie di merci che nel Cinquecento, nel Seicento, i capi dell'impero turco sono costretti a comprare in Occidente, perché nel loro impero non si producono. E lo fanno con estrema disinvoltura anche in tempo di guerra, sono commerci che non si interrompono mai. Noi vediamo sultani e gran visir che ordinano a Venezia, che è davvero la porta dell'Occidente in questo senso, è davvero il tramite fra Oriente ed Europa, noi vediamo sultani e gran visir che ordinano a Venezia occhiali, carte geografiche, orologi, vetri, lampade. Le lampade per le grandi moschee di Costantinopoli sono spesso comprate in Occidente, perché nessuno produce vetri come quelli che si fanno a Venezia. Tecnologie come quelle degli occhiali o dell'orologio, i turchi non le possiedono. Ci sono anche poi certi consumi voluttuari che rendono i turchi dipendenti dall'Occidente, per esempio a Costantinopoli è di gran moda il parmigiano. Il formaggio parmigiano, che allora peraltro da noi si chiamava piacentino, quindi né parmigiano né reggiano, ma piacentino, era adorato a Costantinopoli e ne arrivavano enormi carichi per i palazzi dei pascià. Ma quando la figlia del sultano Solimano, Mirimà, decide di offrire con i suoi fondi un nuovo acquedotto per la Mecca, per dare da bere alle folle dei pellegrini, gli attrezzi li deve comprare in Occidente, perché nell'impero non si produce un'attrozzatura sufficiente. Succede perfino che quando sta per scoppiare la guerra fra Venezia e i turchi, e la guerra che poi porterà alla battaglia di Lepanto, e però la guerra non è ancora scoppiata, c'è ancora un ambasciatore veneziano a Costantinopoli, il comandante della flotta imperiale turca, il Capudan Pasha, ha la faccia tosta di andare dall'ambasciatore veneziano e chiedergli di poter comprare dei fanali a Venezia da mettere sulla sua galea. E l'ambasciatore veneziano sa benissimo che quella galea sta per salpare contro Venezia, ma dato che la guerra non è ancora scoppiata, per abitudine accetta la richiesta e ordina ai mercanti veneziani i fanali per la galea del Capudan Pasha. Dopodiché la flotta del sultano era fornita di cannoni fabbricati da esuli europei, aveva marinai essenzialmente greci, quando non rinnegati italiani. In altre parole c'è tutto un settore di tecnologia, di tecnologia bellica e di tecnologia marinara, su cui fin dall'inizio l'impero ottomano è stato a tutti gli effetti arretrato rispetto all'Occidente. Compensava questa arretratezza con altri punti di forza di cui parleremo a lungo. Però non c'è dubbio che in cuor loro i capi dell'impero ottomano hanno sempre sentito che c'erano aspetti in cui i barbari occidentali, misteriosamente, chissà perché, per volere di Dio, avevano un margine di superiorità. Si diceva che i turchi, gli ottomani, anche nei secoli del loro grande splendore, nel 400 e nel 500, sono affascinati da certi aspetti dell'Occidente che loro non riescono a replicare, o che comunque non fanno parte della loro cultura, non fanno parte della loro civiltà. E un esempio straordinario di questo è rappresentato dalle arti figurative. Noi sappiamo che la civiltà occidentale, nel Medioevo e nel Rinascimento, punta tantissimo sulle arti figurative, sulla pittura, sulla fresco. È uno degli aspetti dominanti del nostro mondo. Invece il mondo islamico ha un rapporto molto più difficile con la raffigurazione. Perché in teoria, se si dovesse stare a sentire, come dire, i dottori della legge più severi, raffigurare degli esseri viventi è un atto di impietà. Significa raffigurare qualcosa che Dio ha creato, di cui solo lui è il padrone. Per cui l'uomo che raffigura un essere vivente, in qualche modo si mette in concorrenza con Dio. Non è esattamente proibito, ma certamente nel mondo islamico c'è una fortissima diffidenza nei confronti delle raffigurazioni. Non parliamo naturalmente delle raffigurazioni di Dio o dei santi, che agli occhi dei musulmani sono delle forme di impietà totale. Per cui solo il barbaro cristiano può pensare di rappresentare Dio con la barba bianca e di non stare commettendo un atto vergognoso nei suoi confronti. Dopodiché però i musulmani sanno benissimo che i barbari occidentali hanno delle tecniche di pittura straordinarie e ne sono affascinati. Non è forse un caso che il sultano che più di tutti è stato affascinato dalla pittura rinascimentale sia proprio quello straordinario personaggio che è Maometto II, il conquistatore. Maometto II che a metà del Quattrocento conquista Costantinopoli e si proclama imperatore romano e che a un certo punto entra in corrispondenza addirittura col Papa, con la speranza di diventare imperatore dei cristiani. Maometto II chiama a Costantinopoli, questa città che lui sta trasformando di nuovo in una grande capitale mondiale, chiama a Costantinopoli dei pittori. Chiama Gentile Bellini da Venezia e Gentile Bellini fa il ritratto di Maometto II. E' l'unico caso per secoli di un sultano che posa per un ritrattista e si fa fare il ritratto. E questo ritratto esiste tuttora, è uno dei capolavori di Gentile Bellini. Si vede benissimo questa fisionomia orientale di Maometto con la sua barbetta punta. Dopodiché, morto Maometto II, il successore, che è un pio musulmano, trova vergognosa questa cosa del ritratto e lo fa vendere al bazar. Per cui il ritratto si perde, poi è saltato fuori e appunto lo possediamo ancora. Ma certamente non si crea una tradizione. E tuttavia non è finita, perché ci saranno ancora momenti in cui la pittura occidentale apparirà ai grandi dell'impero ottomano come qualcosa che a loro manca e che serve. Verso la fine del Cinquecento c'è un gran vizir, Maometto, chiamato Sokollu, che è come molti gran vizir uno slavo dei Balcani, ma di questo parleremo, non è affatto un turco. Ebbene, il gran vizir Maometto Sokollu a un certo punto ordina a Venezia una serie di ritratti immaginari dei grandi sultani della dinastia ottomana, a partire dal fondatore Osman e così via. Ora, questa è una cosa tipica dell'arte rinascimentale barocca, i ritratti dei grandi sovrani del passato, Carlo Magno, di cui nessuno sapeva che faccia avessero, però si faceva lo stesso il ritratto. Ed era una cosa che aveva una valenza politica dinastica importante. Bene, a fine Cinquecento c'è un momento in cui, nei palazzi di Costantinopoli, si pensa se questa cosa ce l'hanno i cristiani, dobbiamo averla anche noi. E però li dobbiamo ordinare laggiù i ritratti, perché da noi questo non esiste. C'è un bel romanzo di quello che è il più famoso scrittore turco di oggi, il premio Nobel, Orhan Pamuk, che si intitola Il mio nome è rosso, e che è proprio legato a questo problema, a come nel mondo turco ci sia una sola dimensione di raffigurazione artistica, la miniatura. Il mondo dei miniaturisti è un piccolo mondo che sopravvive ai margini della legalità religiosa e che rappresenta appunto un aspetto della cultura ottomana che è irrimediabilmente perdente rispetto all'enorme complessità della cultura artistica occidentale. Per quanto le élite turche potessero avere forte la sensazione dei margini di superiorità che l'Occidente aveva nei confronti del loro mondo, della loro civiltà, non era però questo l'atteggiamento dominante, bisogna dirlo. Così come gli occidentali erano ben contenti di chiamare barbari i turchi, così i turchi erano ben contenti di chiamare barbari gli occidentali e di disprezzarli completamente. In realtà in tutte le espressioni della cultura ottomana, quando si parla degli europei dell'Ovest, dei cristiani dell'Ovest, la dimensione dominante è assolutamente il disprezzo, il senso di superiorità. Non c'è confronto possibile. Quelli sono una genia di miscredenti eretici che vanno dietro a credenze folli, che hanno una società instabile, ci sono tanti piccoli regni che si combattono fra loro in Europa, mentre di fronte a loro l'Islam presenta la faccia poderosa di un unico impero. L'Occidente non è un posto che interessi, tranne appunto per le meraviglie tecnologiche che ogni tanto produce, però fondamentalmente non c'è nella cultura ottomana un desiderio di conoscenza dell'Occidente. Non c'è neanche peraltro nell'altro senso, per molto tempo sia chiaro. A un certo punto succede che un ambasciatore ottomano arriva in Europa, nella capitale di non so più quale regno amico, momentaneamente amico, e lo portano a visitare i grandi edifici, lo portano alla biblioteca, e pensando di fargli piacere gli fanno vedere che nella biblioteca sono conservati molti manoscritti del Corano. E l'ambasciatore turco, anziché rallegrarsi, rimane terrorizzato e alla prima occasione cerca di ricomprare queste copie del Corano per riportarle in patria, perché la sua sensazione è che il libro sacro sia in esilio, sia in prigionia in mezzo agli infedeli. Non interessa che loro possano conoscerlo, interessa riportarlo in salvo nell'unico luogo dove si può vivere in pace, cioè l'impero ottomano. E in questo senso l'ideologia ufficiale degli imperatori, dei sultani turchi, va di pari passo con quella che è una tendenza profonda dell'Islam, di pensare cioè che soltanto laddove l'Islam governa è possibile la pace, soltanto lì ci sono la giustizia, l'eguaglianza, fuori c'è la guerra, c'è il disordine, c'è l'eresia. I sultani turchi si fanno interpreti di questo e in tutta la loro ideologia insistono su queste formule, soltanto dove comanda il sultano c'è la pace. La terminologia che i sultani turchi usano nei loro atti pubblici, nelle loro lettere, è estremamente significativa. La loro capitale è Costantinopoli, la protetta. L'impero è il dominio ben custodito. Lo Stato è lo Stato sublime. Il loro governo, e questo è un termine che è entrato anche nell'uso corrente in Occidente, il loro governo è la sublime porta. Ecco, la sublime porta è semplicemente la porta d'ingresso, secondo qualcuno, al palazzo del Gran Vizir, secondo altri al terzo cortile del palazzo imperiale di Topkapı, il cortile dove soltanto il sultano poteva entrare. Fatto sta che questa porta è sublime, perché sublime è il potere dell'imperatore. Di fronte a lui, tutti gli altri, il re di Spagna, l'imperatore di Germania, il re di Francia, che pure è un alleato, sono tutti dei miserabili, dei vassalli, nel migliore dei casi, dei subordinati. I veneziani, questi veneziani che sono così intraprendenti, da cui si comprano cose meravigliose, con cui si hanno rapporti continui, però i veneziani sono dei pescatori, sono dei miserabili, il loro capo è un doge, e i turchi sanno benissimo che doge vuol dire duca, quindi è un grado inferiore perfino al re. Figuriamoci dal punto di vista del Gran Signore, che miserabile può essere il doge. Poi quando il sultano scrive al doge, gli scrive delle lettere molto ben educate, perché le forme, la cancelleria ottomana le conosce, ma fondamentalmente l'idea base è che da un lato c'è l'impero, che corrisponde al mondo dell'Islam, e quello è il mondo della pace, è il mondo protetto, custodito, dove tutti vedono riconosciuti i loro diritti. Fuori ci può essere soltanto la guerra. La prospettiva con cui gli ottomani guardano al resto del mondo dunque è la prospettiva della conquista, la prospettiva del conquistatore. La guerra può essere sospesa, si può fare momentaneamente la pace con i miscredenti, ma comunque è voluto da Dio, loro non dicono la provvidenza, perché il concetto non c'è come tale nell'Islam, ma è la stessa cosa, è voluto da Dio che un giorno l'Islam trionfi, e il trionfo dell'Islam vuol dire il trionfo del sultano, naturalmente. Solo che per fare la guerra all'Occidente, per andare a prendere la mela rossa, per arrivare a Roma, a Vienna, si può andare per terra, certo, attraverso i Balcani, e sappiamo che più volte gli ottomani sono arrivati ad assediare Vienna, anche se non l'hanno mai presa. Ma per prevalere davvero definitivamente ci vuole un'altra cosa, bisogna impadronirsi dei mari. Ora, i turchi non sono un popolo di marinai, i turchi sono un popolo di pastori delle steppe, che hanno creato tutta la loro cultura, lontanissimi dal mare, e che col mare hanno un rapporto difficile. La loro lingua parla del mare, ha fatto anche dei prestiti alle nostre, noi parliamo del Mar Nero, per esempio, il Mar Nero è il mare su cui si affaccia Costantinopoli, Mar Nero è un'espressione turca in realtà, una volta in Italia lo si chiamava il Mar Maggiore, il Mar Nero è un'espressione turca perché in turco il nero indica il nord, tutto ciò che è l'oscurità, la notte, il freddo del nord, e quindi il Mar Nero. E a questo punto non ci stupirà che invece il Mediterraneo, che si affaccia verso il sole, verso il caldo del sud, per i turchi, in lingua turca, sia il Mar Bianco. Ebbene, il Mar Nero e il Mar Bianco circondano Costantinopoli, l'impero non può vivere senza essere presente sui mari, e tuttavia ha costantemente paura di non farcela, ha costantemente paura di essere inferiore ai barbari occidentali sul mare. Costantinopoli non può vivere senza il mare. Un giorno un consigliere del sultano Selim I gli dice proprio questo, gli dice «Mio signore, tu abiti in una città il cui benefattore è il mare. Se il mare non è sicuro, nessuna nave arriverà. E se non arrivano navi, Costantinopoli muore. Perciò i turchi si buttano nel mare e fanno sforzi enormi per costruire una flotta, per strappare agli occidentali i loro segreti, per imparare a costruire le galere, per imparare la navigazione. Fanno anche progressi straordinari in questo. Un turco dell'inizio del Cinquecento, un reis, cioè un comandante di galere della flotta del sultano, Piri Reis, che poi sarà ammiraglio della flotta del Mar Rosso, produce la prima carta geografica conosciuta al mondo in cui è rappresentata l'America. Siamo all'inizio del Cinquecento, Cristoforo Colombo è appena tornato, i turchi sanno già che è stata scoperta l'America e sono già in grado di fabbricare carte marittime con tutti i porti e le rotte, in cui sono segnalate anche le rotte dell'America. È una cosa così straordinaria che, diciamolo fra parentesi, intorno a queste carte di Piri Reis è nata tutta una leggenda del genere di quelle del Graal o degli extraterrestri, insomma, per cui si suppone che il turco non potesse avere informazioni dell'esistenza dell'America se non grazie appunto a un intervento misterioso extraterrestre. In realtà vuol solo dire che gli ammiragli turchi avevano un servizio di informazioni straordinario e facevano di tutto per restare alla pari con gli infedeli, ma sempre con un senso di inferiorità. Lo dico adesso perché oggi abbiamo visto come spesso i turchi abbiano invece un fortissimo senso di superiorità nei confronti dell'Occidente cristiano, ma sul mare non sono a loro agio. I canti dei marinai turchi, che sono conservati e studiati, non sono canti trionfali. In genere il ritornello ricorrente è «Signore, facci tornare a casa», «Facci tornare a mettere i piedi sulla terra ferma». E nonostante questo i turchi, per molti anni, saranno invincibili sul mare, riusciranno a fare anche questo. Ci vorrà la battaglia di Lepanto perché gli occidentali si convincano che forse, almeno sul mare, ai turchi si può tenere testa. Quanto a noi, ci risentiamo lunedì prossimo alle otto della sera.